Lombardia, 5 i premi messi a disposizione. Cominciamo dal quinto premio. Allora il quinto premio va all'elaborato, identificato dal numero 52. 52, quali sostanze? Professore, prima la provenienza. Liceo scientifico Alfredo Nobel. Alfredo Nobel, Ceres. Sì, lui no. Sta volando, il viero d'alto. Olivine Marco. Quinto premio, il viero d'alto. Consegne sindaco. No, aspettiamo che ci siamo tutti. A tutti, ok, ok, ok. Va bene, va bene, va bene. Allora ci facciamo, sì. Quanto classificato? Quanto classificato? Allora, quarto classificato, elaborato numero uno. Elaborato numero uno. Scuola militare Nuziatella, ci sono i ragazzi. Monica Brancaccio. Andiamo avanti con il terzo classificato. Nuovo, nuovamente la busta sigillata. Terzo classificato, elaborato numero tre. E' un problema che era più volumiale. C'è quanti sostegno? Dove lo tre che era? C'è un certo. E' un caro effetto magico. Esatto. E' un caro effetto magico. Un po' di indagini su questa coincidenza di corresso. Allora, liceo classico Alessandro Maggiore di Milano. eccoci ci sono Matteo Ferro di Bona Matteo Ferro di Bona complimenti complimenti facciamo un po' di sostanze l'influenza la condiziona un po' per un'altra cosa dobbiamo essere un po' è un periodo di influenze allora, secondo classificato secondo classificato elaborato il numero 36 36 vediamo un attimino adesso a lei tocca a lei in stavolo con le indizie con fama però mi raccomando la provenienza passa professore la provenienza non sono pronto per servire provenienza a causa vicio classico di nonno ci sono i ragazzi alzate le mani ecco un po' di sostanza è un uomo o donna? donna sono due quindi già si riduce già si riduce comincia a verare il volontario il volontario è 20 alessia vittoriano ce l'ha proprio fatto che ovviamente non può digioire primo primo classificato ragazzi è l'ultima busta elaborato numero 36 elaborato numero 36 voglio per citare ovviamente che i ragazzi non conoscono il numero che il numero con cui è stato minato 59 si spagna se si spagna prego professore con calma potrò vedere con tutta la società della busta infatti ogni anno è sempre un problema cercare di aprire perché sono veramente sigillate in modo quindi primo classificato prof la provenienza pausa diciamo classico diciamo classico troppo mausa io metto diciamo classico Alessandro Marzomi diciamo classico palestato Marzoni divipo Casali grazie 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 Grazie.